10.234 firme in 5 settimane per istituire il centro di radioterapia nell'ospedale Frangipane di Ariano Erpino. Una petizione popolare consegnata nelle mani della Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio. Io credo che sia importante in un territorio che nelle aree interne dare risposte, che non abbia lunghi tempi di attesa come purtroppo avviene spesso e drammaticamente per problematiche di questo tipo, mi pare molto importante. Naturalmente porteremo al Presidente De Luca, che adesso è commissario alla Sanità, questa richiesta che credo debba avere una risposta positiva. Per migliorare la sanità delle aree interne e consentire un servizio basilare per i pazienti oncologici come quello della radioterapia nell'ospedale pubblico di Ariano, sono scese in campo le associazioni Amdos e Arambe, raccogliendo il sostegno del consigliere regionale Carlo Iannace. Le esigenze del territorio vanno ascoltate, sicuramente oltre 10.000 firme raccolte, ho 10% della popolazione che afferisce quell'area, quindi hanno enorme richieste del territorio e va ascoltata. È fondamentale che, e dobbiamo ringraziare la Presidente, che comunque ci ha permesso, ci permette di arrivare a vedere questi canali e poter dare risposte e dare una voce a questo territorio. L'istanza arriverà sul tavolo del neocommissario alla Sanità in Campania, ovvero lo stesso Governatore Vincenzo De Luca, che ad ottobre, in una visita all'ospedale Frangipane, con la manager dell'Asle Orpina, Maria Morgante, aveva evidenziato la necessità di dotare il nosocomio arianese di un centro per la radioterapia. Non resta che passare dai buoni propositi ai fatti concreti.